In questo breve video vedremo un modello di geometria rotatoria di Giorgio Scarpa. Si tratta di una catena ad anello triangolare. Scarpa studia le sezioni del cubo e ottiene questi tre elementi, questi tre moduli, perfettamente uguali l'uno all'altro. Ognuno di questi, quindi, è un terzo del cubo. Utilizzando dodici di questi moduli realizza questa catena a base triangolare. Sono dodici moduli affiancati, collegati tra di loro e attraverso questo movimento vediamo come si sviluppa appunto la catena. Con un ulteriore movimento otteniamo un cubo. Ecco, è tutto. Ciao!